Mi fa molto piacere, è un collegamento molto atteso, lo avevamo annunciato la scorsa settimana e siamo stati di parola. Eliana. E allora vediamo se Francesca Mazzoleni ci vede, ci sente, noi la vediamo? Vi vedo, vi vedo. E ti sentiamo anche forte e chiaro. Ciao. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao Francesca, che piacere intanto. Sono molto contento ed è vero, poi quando ci siamo scritti mi sono venute in mente tante cose. In un'ultima parlavo con Eliana di Valentina Pedicini che è stata nostra docente al Centro Sperimentale di Palermo e quando il tuo nome è risaltato nell'intervista che abbiamo fatto con Daniele Urciolo la scorsa settimana e Cateno Piazza del Catania Film Fest, ho detto no, dobbiamo averla ospite nel nostro Open Day Cinema e ci fa molto molto piacere. Benvenuta. Grazie, anche per me è un grandissimo piacere per svariati motivi, ecco, non gli sto ad elincare tutti, però ci sono tante connessioni per me, diciamo, emozionanti e importanti. Mi ci metto pure io, anche a me fa piacere perché siamo di parola. La scorsa settimana i nostri ascoltatori abbiamo lanciato una promessa, cioè una richiesta che portava con sé una promessa e l'abbiamo mantenuta. Abbiamo fatto un invito pubblico Francesca, abbiamo detto Daniele mettici in contatto con Francesca perché vorremmo averla e devo dirti che è stata immediata la risposta di Francesca, sì ci sono. Bellissimo. Abbiamo però il dovere di dire a Francesca che noi ci dividiamo un po' tra la diretta in streaming sulla pagina Facebook dove ci troviamo adesso ma fra trenta secondi torniamo anche in FM, quindi per chi ci ascolta la radio in questo momento sta ascoltando la musica, per cui non siamo impazziti ma ti ripresenteremo da capo perché chi è alla radio ha bisogno di essere guidato a questo ascolto e quindi conoscerti. Ecco, quindi passiamo anche dall'altra parte. C'è anche un po' di ritmo caliente in questo martedì 7 dicembre su Radio Inno, un po' di Shakira non guasta mai. Continuiamo però quello che è il nostro percorso di Open Day Cinema come ogni martedì in diretta su Radio Inno dalle 9 fino alle 11 e Ivan ripartiamo da un argomento che abbiamo affrontato la scorsa settimana. Eh sì perché era in corso, adesso si è concluso da pochi giorni il Catania Film Fest organizzato da dei cari amici, io l'ho frequentato per diversi anni, purtroppo quest'anno non sono potuto andare, Daniele Urciolo e Cateno Piazza e c'eravamo impegnati ad avere Francesca Mazzoleni che proprio venerdì ha presentato il suo film a Catania Film Fest e ovviamente per te è stato Francesca un ritorno alle tue origini. Intanto benvenuta su Radio Inno. Grazie, grazie mille, sì è stato un ritorno alle origini che aspettavo in realtà da tantissimo tempo perché questo documentario nell'ultimo anno e mezzo aveva girato tanti luoghi però avevo proprio detto ai direttori del festival ma com'è possibile che ancora non sono tornata a casa e quindi la risposta è stata immediata e niente mi sono ritrovata anche con persone a meccare, quali parenti che non vedo da tempo, più diciamo tutte le persone che ho conosciuto durante il festival a presentare il film a Catania che è stata un'emozione incredibile. Il nome di Francesca Mazzoleni mi ritornava spesso un po' in questi mesi, non ultimo appunto la consegna del premio dedicato a Valentina Pedicini, un pensiero intanto su questo e poi ho tante domande da farti Francesca. Assolutamente, quello è stato il premio dedicato a Valentina da parte del centro sperimentale di Palermo e di Costanza Quatriglio è stato diciamo una cosa per me molto importante perché la scomparsa di Valentina che ha portato avanti nel cinema documentario un punto di vista per me e per tanti fondamentale, rigoroso, proprio dell'arte in cui io credo profondamente, è stato emozionante per questo motivo perché insomma più ci sono occasioni per ricordare, per condividere l'arte di Valentina, più è importante ecco, quindi essere associata con un premio a un operato simile a una certa visione del mondo è stato molto emozionante, poi oltretutto la conoscevo, l'ho conosciuto ovviamente, quindi stavamo in un'agenzia insieme, è stato bello anche quelle persone a me vicine condividere quel momento e la consegna di questo nastro d'argento che è stato dedicato a lei, poi i premi sono diventati tanti indicati da Valentina e spero che continui insomma a essere ricordata nel modo che più merita vogliamo tornare anche a Punta Sacra, vogliamo portare i nostri ascoltatori all'interno di questa realtà lo possiamo fare anche vedendo qualcosa? Sì, vediamo il trailer di un film che ricordiamo ha vinto il prestigioso e importante festival Vision Durel e poi ancora Nastro d'Argento, candidato ai Davide Donatello è un film che io ho amato, unisce un po' la denuncia sociale al racconto del reale per cui ai nostri spettatori facciamo vedere il trailer e poi lo commentiamo insieme Come si vede il trailer alla radio? Non si può, il trailer lo vediamo in diretta video sulla pagina Facebook di Radioin, mentre per chi è alla radio c'è la musica che ci piace sempre c'è Relax e questo è Mica Io per ditta la prima volta sono venuto qua Ci avevo undici anni Ho detto fra, sto a un paradiso Noi abitavamo a Roma e da Roma poi se stiamo trasferiti qua Mi piacerebbe pure andammene perché a me tipo il solito posto dopo un po' mi stanca Adesso che ti ci sto io qua Tu non te ne vai Quando entrò la protezione civile a fare il nostro sgombro Loro entrarono per emergenza a fiume Stavo qui in gira il fuoco Dicevano che dove arriva l'onda? Se siete quanti metri dalla Sardegna L'onda non si è mai vista Non c'è nulla di differente A parlare di Vittorara che suonava su una chitarra in Cile E a parlare di Cicchile Alesa all'idroscalo Perché in casa pure qua la vogliono togli Ma che vuoi fare? Sposata è il primo deficiente che passa Che va a campare 20 euro al giorno Perché va a fare questa giornata Te che va a fare i sopracciglia amichette tua E i baffetti per guadagnare 10 euro al giorno Ma un po' d'ambizione ce l'hai? No No Ho fatto quello che si può Non sento più ma toccherò C'è troppa verità in ogni storia Eccoci, abbiamo ancora un minuto e mezzo a nostra disposizione qui su Facebook Allora, Francesca, raccontaci un po' La genesi di questo lavoro Tra l'altro mi piace ricordare che tu sei stata L'assistente alla regia di Marco Danieli Per La ragazza del mondo Film anche questo che io ho amato In maniera smisurata Raccontaci di Punta Sacra Sì, poi il percorso con Marco è stato bellissimo Marco è meraviglioso Sì, che ti sia piaciuto il film Perché è stato il mio primo vero lavoro Diciamo su un set Il Punta Sacra è arrivato dopo i miei studi al centro sperimentale È stato il secondo film che ho fatto Il primo documentario E ce l'avevo in testa da molto tempo in realtà Perché io ho conosciuto questa comunità Dell'idroscalo di Ostia Che a Roma non tutti conoscono O se si conosce l'idroscalo a Roma C'è sempre una nomea addosso questa zona Che non è sempre, diciamo, positiva È una zona che spesso viene legata al degrado Alla criminalità Io li ho conosciuti otto anni fa E ho trovato in questo luogo invece altre cose E ho trovato tanta bellezza Ho trovato una comunità che stava lottando Per difendere le proprie radici La propria storia Perché è una zona di Roma Che è ancora sotto sgombero Dopo 30 anni di storia C'è anche questo punto di vista Da sottolineare Come si va a tutte queste storie di persone Che si fondono anche ad amministrazioni Che si muovono o non si muovono Per determinati luoghi delle proprie città Mi sono permessa di inserirmi Perché dobbiamo tornare in diretti in FM Quindi ripartiamo adesso da lì E noi torniamo a parlare con Francesca Mazzoleni Di Punta Sacra Perché il trailer ci ha portato Quella che è la realtà dell'idroscalo di Ostia Di questa comunità Che Francesca ha conosciuto diversi anni fa E adesso ci racconterai tu Come da otto anni fa Si è arrivati a questo film Che è stato presentato per la prima volta a Catania Appena la scorsa settimana In questi otto anni cosa è accaduto? In questi otto anni è accaduto Che io mi sono affezionata appunto A questa comunità Principalmente composte da donne In cui ho trovato dei valori bellissimi Perché è una comunità molto coesa Con enorme dignità Con voglia di lottare Con energia, ironia E sono tutte cose che ho voluto restituire E condividere col mondo All'interno di questo documentario Molto spesso col cinema Penso che sia importante Utilizzarlo per gettare una luce Sugli invisibili Diciamo Sulle realtà che magari Non hanno avuto possibilità Di parlare con la propria voce Di farsi ascoltare E questo mi sembrava il caso Quindi andare in una comunità Che stava chiedendo Di essere ascoltata E tramite il cinema Creare un racconto Quindi io ci ho messo In realtà un inverno A fare questo documentario Però otto anni di conoscenza Con queste persone Perché la fiducia In questo tipo di lavori Essere liberi Davanti alle telecamere Fidarsi di me Essenzialmente Quindi aprire Alle proprie storie Le proprie emozioni È qualcosa di difficile Da raggiungere Questo è stato Il primo obiettivo Che ho voluto Raggiungere In otto anni di lavoro Insieme a loro Ma Francesca Era proprio questo Che volevo evidenziare Cioè tu hai usato Una parola invisibile Noi lo ripetiamo spesso Quando raccontiamo Il mestiere del documentarista Catturi la fiducia Il corpo a corpo Proprio con i personaggi Che tu devi raccontare Dove tu A tua volta Diventi invisibile Quindi La persona Non si accorge più Della camera O della telecamerina Si lascia andare In racconti Che ovviamente Truppe pesanti E set cinematografici Non potrebbero mai Raccontare Esatto È una questione Di invisibilità E come dicevo prima Di fiducia Perché è importante Per me Condividere il percorso Che si sta facendo Quindi qual è l'obiettivo Qual è il sentimento Che vogliamo comunicare Spesso si usa Questo mestiere Per Non dico per fregare Ma per tradire Magari Un punto di vista Da cui Da cui si parte Invece io ho condiviso Veramente ogni passo Questo film Non è uscito Nelle sale Senza aver fatto Una proiezione Ad esempio Più lì nel luogo Insieme alle persone Quindi insomma E qual è stata la reazione Alla prima proiezione Francesca? La reazione è stata Bellissima Abbiamo preso proprio Un piccolo teatro Ad Ostrio Ho invitato tutta Quasi tutta la comunità E c'è stata molta commozione Vedersi raccontati da fuori È sempre qualcosa Penso per qualsiasi Essere umano Molto Molto strana E particolare Diventare da persone A personaggi Però sono stati Molto contenti Infatti poi abbiamo fatto Un percorso Tutti insieme Anche di presentazione Del film Insieme ai protagonisti In giro Per Roma E per altre città Che bella Questa definizione Da persone A personaggi È veramente Il cuore Del documentario E questo ovviamente Si vede Siamo schifosamente Dalla parte del documentario E non della finzione Francesca Esatto Ma è una distinzione Poi negli ultimi anni Che si sta facendo Sempre più labile Perché vediamo Tanti film O documentari Vedendo dei film Ci chiediamo Ma quanto è La realtà In questo film E vedendo i documentari Ci chiediamo Ma quant'è la finzione In questo documentario E scommetto Che il tuo prossimo lavoro È tormentato Da questi pensieri Assolutamente sì Infatti ne sto portando avanti Due diversi Una è una serie documentari E l'altra è un film narrativo Però Entrambi Diciamo che Ti senti in equilibrio Esatto Fortemente contaminato Esatto Non è facile Immagino Dividersi fra due linguaggi Così diversi No Non è facile Però per me È essenziale Perché non riesco Diciamo a vedere Un cinema In cui Non si guardi tanto Alla realtà Non si prenda tanto Alla realtà Tutti i miei film Il mio cinema preferito È sempre Al limite E allo stesso modo I documentari Troppo rigorosi E purissimi Interessano di meno Mi piacciono quelli Che affondano anche Nel linguaggio del cinema E quindi In una profonda libertà Di linguaggio Quindi in cui Puoi utilizzare le musiche Puoi utilizzare Come ho fatto io Dei titoli Dei cartelli Dei capitoli E qualcosa che È molto vicino al cinema E poco al documentario Purista Perché credo proprio Che le divisioni eccessive Nei generi Siano nocive In un periodo Così libero Per la nostra arte Condivido Senti Una mia curiosità Chi è il tuo autore Di riferimento Se c'è In particolar modo Diciamo Legandolo a questo discorso Che stiamo facendo E quindi Al cinema documentario Io amo molto Roberto Minervini Che ha fatto dei film Che andarono a Cannes In Louisiana Che ho amato tantissimo E poi sono cresciuta Con tutt'altro cinema In realtà Perché parlo sempre Delle mie origini Di riferimento Che sono Adolescenziali Quindi film che ho amato Quando avevo 15-16 anni E che mi hanno segnato Nella vita Sono stati molto Trasgressivi Diciamo Quindi Il cinema americano Indipendente americano I vari Larry Clark O Armoni Corrine Dei tempi d'oro Perché mi piaceva molto Appunto Il racconto Iperrealistico E anche provocatorio Soprattutto nella fascia Dell'adolescenza Poi ho cambiato gusti Quindi potrei continuare A citarvene tantissimi Anche della storia del cinema Ovviamente Io Sono una felliniana Ad esempio Proprio Sfegatata E ci sono Alcuni momenti Del documentario In cui mi sono ritrovata Tipo nel carnevale Dei momenti Che ho guardato E ho detto Guarda Sembra un po' Fellini Ma non perché L'ho cercato io Perché quella realtà Mi ha portato Proprio a pensarlo Ed è stato bello Insomma C'è un filo rosso Sempre che lega I nostri ospiti Abbiamo parlato di Fellini A inizio puntata E ora ritorna E ritorna con te Grazie Francesca Mazzolini Per essere stata Qui con noi Quest'oggi E ci risentiamo presto Visto che ci sono Tante cose in cantiere Volentieri Io ci sono Quindi mi auguro Un buon lavoro E spero di tornare Ciao Francesca Grazie Ti aspettiamo a Palermo Ciao Ciao